si ammazzate prima così a casa sparati per fare quando sono e siamo a due rimane un nemico attenzione la città un po' non posso da questo aspetto l'angelo non ho neanche droni c'è quello di fede che ti guarda non andare per la porta vai alla sinistra e la stessa sarà la mirato la città la città la città la città città la città salva dove l'hai presa se non c'è nessuno si dovrebbe arrivare dalla porta ma hanno aperto obiettivo si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante cosa ho fatto dove 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 fuori finestra no no qua fuori sinistra ma dov'è sto drone vieni dall'altra parte si ho capito rimangono 5 secondi cosa ho fatto appena sono entrato in obiettivo no raga non so neanche io cosa ho fatto boh io salgo la clip un operatore alleato rimasto prendendo il contenitore ciao ciao ancora youtube ho sperato a caso io salvo la clip bella ho sperato a caso no oh ma è ancora lì rimane un nemico 15 secondi attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia la squadra d'altacco ha eliminato che one tap sotto c'è sotto c'è sledge sotto c'è sledge sto salendo le scale l'hai visto l'hai visto esmo qua oh i colpi colpi vabbè 32 testa prendo dietro ammatti ammatti questi per terra a ooooh lo putter della ninja pigliatelo in culo porco donna dio cane oh 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 Grazie a tutti.